In principio era il buio, e poi bang! Ebbe inizio una realtà infinita e in continua espansione, fatta di tempo, spazio e materia. Ogni giorno nuove scoperte ci aiutano a comprendere i misteriosi, svalorditivi e letali segreti di un luogo che chiamiamo Universo. Questa realtà cosmica è diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto e imparato nel corso della nostra esistenza. Nel nostro Sistema Solare possiamo incontrare fenomeni unici nel loro genere, tra i più stupefacenti, insoliti e violenti che esistano nell'intero cosmo. Un pianeta meraviglioso, sui cui i celebri anelli sorgono montagne alte quanto le Alpi. Una luna scintillante dalla cui superficie si innalzano geyser di acqua e ghiaccio. Ci arrampicheremo su un megavulcano. Poi andremo alla scoperta di una misteriosa fascia di asteroidi prima di immergerci nell'occhio di un uragano di dimensioni eccezionali. Vi riveleremo le più recenti, straordinarie scoperte su questa nostra porzione di cosmo ed esploreremo le sette meraviglie del nostro Sistema Solare. Sistema Solare